Successo oltre le aspettative, numeri davvero importanti per Degusta Morbegno, l'evento enogastronomico che a causa dell'emergenza coronavirus ha preso il posto quest'anno di Morbegno in cantina. Presenze cresciute esponenzialmente di weekend in weekend, un evento che si è rivelato di promozione e accoglienza turistica, la gran parte dei visitatori è arrivata dalle province limitrofe. La valorizzazione di edifici storici come il Palazzo Malacrida e l'ex convento di Sant'Antonio ha creato un mix perfetto di storia, cultura ed enogastronomia, bilancio positivo sotto tutti i punti di vista. Sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e normative anti-covid, tutte le persone, i visitatori, sono stati messi in sicurezza e i visitatori hanno potuto apprezzare e visitare la nostra Morbegno e i paesi limitrofi. L'ultimo weekend della rassegna è stato quello più fruttuoso. Abbiamo avuto oltre 800 pass per un totale della manifestazione di circa 1900. Ho effettuato il percorso a Palazzo Malacrida e immergermi nei visitatori che domandavano incuriositi del palazzo, delle storie che con le mura e quei dipinti saperne spiegare, per poi arrivare nel meraviglioso terrazzino di Shimaika che è stato il protagonista di tutte le foto dei visitatori. Quindi un interesse culturale, forte. Un'edizione che non vuole essere punto di arrivo ma che vuole aprire nuovi orizzonti, anche quando tornerà a Morbegno in cantina. Trovare una via di mezzo tra le due manifestazioni sarà la carta vincente, riaprire le cantine se le situazioni sanitarie lo permetteranno più che volentieri. Lavoro incommiabile quello svolto dai volontari della Proloco, oltre a quello delle associazioni AIS, Associazione Italiana Sommelier e ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Anche l'altra iniziativa, denominata Carta Morbegno, in cui la Proloco è capofila assieme a Fondazione Promor, commercianti e comune, sta riscuotendo successo. I cittadini stanno dimostrando di aver compreso i vantaggi dell'operazione. Grazie alla CARD è possibile infatti effettuare gli acquisti nei negozi aderenti al circuito, vedendosi riaccreditare sulla tessera il 10% di quanto speso. Sono ormai mille le CARD ritirate e il mio invito è di continuare ai morveniesi di ritirarle presso il nostro ufficio in piazza Sant'Antonio 5 o anche presso alcuni negozi che hanno aderito all'iniziativa.